Gentili telespettatori, buona giornata. C'è stata una sfida tra Lameloni e Salvini sulla linea dura sui migranti. Sui migranti, sugli scafisti, viene ritirata la norma sul ruolo della Marina, visto quello che è successo in passato con Mare Nostrum tanti anni fa con il governo di sinistra. Ci sono voci che si sovrappongono dopo il Consiglio dei Ministri a Cutro, linea dura. Insomma, il Consiglio dei Ministri nel segno della solidarietà, della vicinanza, l'invito a Palazzo Chigi dei familiari. Giorgia Meloni ha cercato un difficile equilibrio in questo Consiglio dei Ministri. La targa con la citazione del Papa e poi ha provato a unire le aspettative di una base elettorale che chiedeva il famoso blocco navale subito. I fatti di questi ultimi giorni però hanno provocato una forte emozione nell'opinione pubblica. Matteo Salvini ha rinvigorito la sfida su questo tema con Giorgia Meloni. La questione migratoria. Le foto parlano di una squadra compatta, ma le parole e la mimica dei protagonisti raccontano un qualcosa di diverso. Il decreto inasprisce le pene per gli scafisti, per le organizzazioni criminali, anche se l'inasprimento delle pene credo che possa non interessare minimamente le organizzazioni criminali che vivono e risiedono in altri paesi. Il braccio di ferro sulle norme dei decreti sicurezza di Salvini che la Lega voleva inserire, Fratelli d'Italia è riuscito a tenere fuori dal testo, è durato questo fino all'ultimo minuto, perché Salvini voleva inserire delle norme che c'erano prima nei decreti sicurezza. Non tutto il decreto sicurezza, quello ci stava approvando la Lega in Parlamento, in Commissione, poi vedremo che cos'è successo, ma voleva reintrodurre delle norme per limitare gli arrivi in Italia regolari. Il preconsiglio doveva tenersi mercoledì pomeriggio, ma l'hanno fatto ieri mattina. L'articolo 10 del decreto, la difesa, ha tenuto il blitz con una norma che, rafforzando i compiti della Marina Militare sulla sorveglianza marittima, avrebbe dato un ruolo importante ai comandanti delle navi militari. Salvini, temendo un ridimensionamento della Guardia Costiera, ha insorto e anche altri ministri hanno protestato con il sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha coordinato le trattative per la stesura del decreto, finché Guido Crosetto, il ministro della difesa, ha chiesto di togliere la norma e la Premier, rispondendo ai giornalisti, gli ha dato atto che la proposta era stata avanzata dal ministro della difesa e non dal fondatore di Fratelli d'Italia. Il punto sulle navi militari, a cosa sarebbe servito le navi militari in mare? Per fare che? Se non c'è un blocco navale, che cosa devono fare le navi militari? Fare operazioni di soccorso? Per le operazioni di soccorso c'è già la Guardia Costiera. Che mettiamo? Lì una nave militare enorme per fare soccorso, che neanche riesce a muoversi bene? Insomma, quella delle navi militari era più una sparata, mettiamo le navi militari, però realmente non sarebbe servita assolutamente a nulla, infatti è stata tolta dal decreto. Il via libera all'unanimità ha offerto all'esterno l'immagine di un governo compatto, ma poi c'è anche la partita sulle nomine delle aziende partecipate dallo Stato, che non è finita. Intanto commenta Silvio Berlusconi, che in questi giorni ha messo per iscritto, che si sta andando nella giusta direzione. Beh, mentre Meloni promette in tv che il governo cercherà gli scafisti in tutto il globo terracheo, in realtà questo, come vi dicevo ieri, non può avvenire, perché la giurisdizione può essere stesa in via eccezionale, anche lì è tutto da vedere, sulle navi che si trovano in acque internazionali, che sono dirette verso l'Italia, viene inglobata questa nave nella giurisdizione e si può arrestare lo scafista in acque internazionali. Però non è che puoi andare negli Stati Uniti a prendere lo scafista o in Turchia entri nel territorio turco e vai ad arrestare lo scafista. Cercare gli scafisti in tutto il mondo non è assolutamente reale, non è vero. L'avvertimento della Meloni è già nella premessa. Se qualcuno pensa che i fatti del 26 febbraio mi abbiano indotto a cambiare linea, sbaglia di grosso, il leader di Forza Italia su Instagram rivendica di aver quasi azzerato gli arrivi, non il leader di Forza Italia, il leader della Lega. Quando a Palazzo Chigi c'era lui e Salvini prova a salire sul gradino del podio. Nel 2019 si è registrato il minimo di problemi e al Viminale c'era Salvini e Piantedosi. Il leader della Lega è deluso perché ben poco delle sue richieste è entrato nel testo definitivo. Eppure fa buon viso a cattivo gioco. La chiama affettuosamente Giorgia. Salvini non riesce a reintrodurre i suoi decreti sicurezza, anche perché abbiamo visto in tanti video che oggi non servirebbero a nulla, perché ci sono le regole che assegnano subito il porto di sbarco, mentre i decreti sicurezza di Salvini erano imperniati esclusivamente a punire chi entrava in acque nazionali con la confisca, con multe da un milione, a quelli che fossero entrati in acque nazionali senza il permesso. Ma con le leggi che ci sono oggi i decreti sicurezza non servirebbero a nulla. Quindi i problemi sono che Salvini vede che dal blocco navale subito passiamo a o li andiamo a prendere noi e ne facciamo entrare molti di più degli anni scorsi per venire a lavorare. Quindi dal blocco navale a li andiamo a prendere Salvini, che ha basato spesso la sua politica proprio sul contrasto all'immigrazione clandestina, non riesce ad essere d'accordo. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a tutti e buona giornata.